Massimo che vedo lì nel nostro angolino lo inviterei qui accanto a noi prima di andare in pubblicità così possiamo assaggiare un altro po' di vino Vi distraggo un attimo da queste questioni delicatissime Per farvi assaggiare un vino che ha raggiunto la maturazione, è un vino del 99, è la nostra riserva più importante Un rosso fatto da un blend di diversi guaggi e passerei direttamente a versatolo Benissimo, vediamo, quindi più forte o più leggero di quello precedente? Decisamente più forte Ma siamo verso la fine della trasmissione Vi consiglio di assaggiare anche le tartine insieme per sopportare Non so ospite non le ancora toccate ma penso che stia aspettando il termine della diretta Non voglio farmi vedere con la bocca piena Benissimo, grazie Massimo, andiamo in pubblicità, tra poco ritorniamo ancora con ore 12